Io sono Eleonora e lei è la mia piccola Sofì, una Jack Russell che ho scelto circa un anno e mezzo fa, molto energica e vitale, anche se in questo momento non sembra, sia dal punto di vista mentale che fisico. Non a caso Maria Giusi Imparato l'ha immediatamente soprannominata Duracell e devo dire che questa cosa, questa sua energia mi ha creato non poche difficoltà. A dire il vero io prima di conoscere Maria Giusi avevo già frequentato un corso di educazione che tuttavia non mi aveva portato a dei risultati tangibili, tant'è che Sofì continuava ad essere ingestibile negli ambienti esterni, non avere autocontrollo, non ritornare per niente al richiamo e questo mi creava non poche frustrazioni perché nonostante io fossi una persona che mettessi in pratica i consigli che mi venivano dati, poi non riuscivo comunque ad ottenere dei miglioramenti. Ma dal momento che ho incontrato Maria Giusi Imparato le cose sono cambiate perché ho notato da subito la sua professionalità, competenza, grande preparazione. Da un'analisi iniziale molto attenta mi ha poi saputo indicare un metodo preciso, chiaro, fatto di esercizi, fatto di regolarità che mi hanno portato davvero a dei risultati ottimi perché mettendo in pratica questi consigli quotidiani ho potuto migliorare la mia relazione con Sofì e quindi essere più capace, più competente e sicura nella sua gestione, anche perché io ho alcune difficoltà fisiche che mi rendono più complicata la situazione nella gestione appunto della mia Sofì. Ma grazie a lei ho potuto comunque renderla un attimino più tranquilla, diciamo più semplice, anche perché lei è molto versatile, mi ha saputo sempre nel tempo dare la cosa giusta, il consiglio giusto e in base proprio alle mie necessità che poi cambiavano nel tempo. Ad esempio utilissimo è stato il videocorso e lo è tuttora, il videocorso che lei mi ha consigliato proprio per poter andare a rivedere periodicamente tutte le volte che vogliono gli esercizi in maniera tale da andare a verificare quali sono le cose ancora da cambiare. Oppure anche in questo periodo di Covid-19 non ci siamo mai fermati con l'educazione di Sofì perché grazie alle lezioni online e videoconferenza abbiamo comunque potuto continuare a progredire. Per cui in definitiva io non posso fare altro che consigliare a tutti l'esperienza e la professionalità di Maria Giuse imparato, a tutti coloro che hanno un amico a quattro zampe, sia che presentino delle problematiche sia che non le presentino, non ha importanza perché ho sperimentato di persona che una buona educazione del proprio amico a quattro zampe sta alla base della relazione che si sta ora con lui. Per cui davvero io e anche Sofì lo consigliamo a tutti.